Ciao a tutti e bentornati in Minecraft con le mod, siamo sul 1.7.10 modpa che ho fatto un sacco di lavoro tra lo scorso episodio e questo Come potete vedere ho eliminato la zona di botagna che adesso rifaremo, cioè rifarò con calma tutta la roba che abbiamo fatto e poi andremo avanti con botagna Ho eliminato la maggior parte delle ceste che c'erano qua schifose, ho sistemato la terra, ho tolto i campi di grano che non mi piacevano più E ho spostato il nostro sistema di Applied Energistics qua nell'angolino, come vedete abbiamo dentro tutta la roba che ci serve E possiamo fare un po' quello che ci pare E intanto, mentre che io neanche me ne accorgevo, sono passati due giorni, non ho caricato video, mi sono preso un weekend libero, tranquillo, bello, rilassato Ho fatto un sacco di cose interessanti, poi vi racconterò se proprio vi interessa E in questo weekend siamo arrivati a 600 iscritti Quindi sono super felice, super contento, è ora di registrare un episodio anche perchè è tardissimo e devo caricare questo episodio Perciò, oggi andiamo avanti a giocare ancora un po' con Applied Energistics Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto che, ehm, gli abbiamo dato energia, questo sistema di Applied Energistics Abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto sta roba qua Abbiamo fatto l'inscriber, i primi, i primi drive, il primo, la prima storage cell, i primi drive Ne ho fatti altre tre da 4k, così almeno ho richiestrato un sacco di altre roba E ho fatto anche questo che è un charger Ora, il charger è una cosa fighissima perchè, come sapete, in Applied Energistics ci sono due tipi di quarzo Nel nuovo, c'è il Serious Quartz e il Charge Serious Quartz E quindi se noi prendiamo un Serious Quartz e ci clicchiamo sul charger Vedete, piano piano diventerà Charge Serious Quartz Da-daaa E così lo possiamo anche utilizzare Cosa ti è successo? Perché ti sei spento? Ah, ok, è a posto E non ci sta più niente in questo coso, quindi fa lo stesso È un po' pieno, ma gli vogliamo bene comunque Ora, mettiamo giù questo fiorellino Fiorellino carino qua Ha a posto E adesso facciamo un paio di cose Prima di tutto passiamo a una cosa fichissima di CanSee Autocrafting con Applied Energistics Lo vediamo un attimo come funziona e poi tutti come ho sempre fatto Prima vi spiego le cose, poi tutti i vari crafting che servono li metto dopo Comunque per fare un po' di autocrafting nella nuova versione di Applied Energistics Prima di tutto lo selezioniamo Ci serviranno delle cose Prima di tutto ci serve una Molecular Assembler E mi serve una Crafting Table per questa Oh non abbiamo legna Wood, ci serve della Wood Grazie Tata Grazie Crafting Table pronta E Mi craftiamo questo Molecular Assembler Fantastico, che è un blocco anche super figo Se lo guardate Guardate che bello che è Non è fighissimo Ora quello che fa, questo qui è semplicemente una Crafting Table Se noi lo apriamo per esempio, prendiamo Della legna Vedrete che è very easy No, non è una Crafting Table da sé Ecco, in pratica è una Crafting Table automatica Dobbiamo inserirci le cose Scusate, ma è la prima volta che uso questo nuovo sistema Quindi anche io sono un po' rinciulito Non so bene come funziona Però l'ho capito come funziona in realtà Ci servirà sicuramente una Interface E per fare un Interface ci serve questo E per fare questo ci serve Questo Fluix Dust Che si fa con un Fluix Crystal Quindi prendiamo questo Prendiamo questo Prendiamo questo Prendiamo questo Charged E prendiamo della Pietra Rossa E li buttiamo in una pozza 1, 2, 3 Di lì ho tolto il laghetto Quindi non c'è più la mia pozza Qua dentro va benone Come vedete ho fatto anche questi cosi qua Questi Crystal Growth Accelerator Che praticamente servono per fare Questi Pure Cell to Squartz Molto più velocemente Comunque abbiamo un paio di Fluix Crystal Dobbiamo macerarli Ah ho tolto il Macerator Adesso come faccio Cerchiamo qua dentro se c'è un Maceratore Com'è che si chiama già? Pulverizer Non c'è Però vuol dire che è fuori Nelle 4 ceste che mancano E Acquise Accumulator No E No E si eccolo qua Un Basic Pulverizer Lo posso mettere qua Vabbè non è? Se questo qui Non ha bisogno di altra Di tanta altra energia Possiamo disattivare il sopra Così questo qui Mi butta l'energia Ah no non me la butta in alto Vero? Sei proprio un infame Allora facciamo così Togliamo anche questo Poi devo fare tutto Tipo Trovare un modo Per portare l'energia in giro Perché così non è veramente fattibile Ok Ti butto dentro questi due qua Maceri 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 Una E due Fantastico E poi Ci servirà ancora Tuk 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 Due logic processors Quindi Logic Logic Questo Poi ci servirà del Gold Non del Golp Ma del Gold E del Silicio Perché mi avete corretto Lo so si dice silicio E non c'è Il silicone Silicio Ho sbagliato io Fino adesso Ho detto una marea di cavoletti Grazie E poi togliamo questo Mettiamo quello Mettiamo quello Però ce ne serviranno due Quindi ancora un altro Grazie Molto gentile Intanto perde energia Perché stiamo usando questo Ci servirà molta più energia Mi sto accorgendo adesso Perché appena questo qui si accende Mi risucchia tutta l'energia del sistema Ma dopo avremo Molta più energia Tranquilli Poi mettiamo questo Questo un po' di redstone E ci fa Quello che ci serve Uno E Zwei E dobbiamo fare Dov'è? Qua Formation core Con questo Grazie E Il Annihilation core Che si fa con il quarto del nether Grazie mille E possiamo finalmente fare la nostra interface Dunke Ora Prendiamo questo Lo mettiamo qua Ovviamente gli dobbiamo dare energia E vedete che si accende tutto intorno Adesso posso mettere dentro la roba? No, allora non funzioni così E poi ci possiamo mettere sopra questa E qua ci possiamo mettere i nostri pattern Quindi facciamo un bellissimo pattern Blank pattern Grazie Mi serve altro quartz glass Facciamo gli altri 8 Ci facciamo un paio di blank pattern E poi ci servirà questo Emi pattern terminal Quindi ci serve un crafting terminal Quindi ci serve un terminal normale Per cui dobbiamo ancora fare questa roba qua E' lunghissimo all'inizio Poi possiamo anche fare l'auto crafting di questo qui E quindi sarà molto più veloce Però per l'inizio ci vuole un attimo Poi ci servono anche altre press Ci serve Oddio non mi ricordo più Sarà il calculation Prendiamoli tutti A posto Grazie Grazie Facciamo uno, due e un pezzo di redstone E voilà E questo lo possiamo mettere qua E fare un me terminal E poi possiamo fare Dobbiamo fare un pattern Coso Quindi ci serve un crafting terminal E per il crafting terminal ci serve un engineering processor Per cui ci serve un diamante E non ne abbiamo Questo è un casino No Ok Vado a cercare un diamante E poi torno subito Diamanti Un sacco di diamanti Yum Ok Quindi Dove eravamo rimasti Abbiamo l'me terminal Dobbiamo sempre fare il pattern terminal Quindi ci serve un crafting terminal Per cui ci serve un calculation processor Ecco cosa che ci serviva E quindi mi serve del pure search squats Quarzo Grazie mille Sono andato un po' troppo avanti Calculation Calculation pronto Poi buttiamo qui Ah no Ci serve ancora Questo e questo Dovrei farne un bel po' di questi Appena riesco a mettere sul Cosa che me li autocrafta Poi Io ne faccio fare un sacchissimo Tutti assieme Almeno mi sono tolto tutti i problemi della vita Grazie millissime E facciamo questo E facciamo Oh no Dove l'ho messo? Si è spengiuto Si devo rimettergli il coso Quanto meno Si si è spento Faccio così adesso Poi faccio così E prendiamo energia anche da sopra Tanche E very very good Molto molto bene Lo mettiamo qua E qui possiamo Utilizzarlo per craftare le cose Quindi mettiamo qui i nostri Blank pattern Ci mettiamo per esempio La legna E Facciamo Encode pattern E apriamo qua dietro E ci lo mettiamo dentro E adesso Se ne andiamo a guardare qua Cerchiamo per wood Dice Craft la jungle wood Quanto ne vuoi craftare? Ne voglio 10 Vai avanti Ce ne crafterà 12 Utilizzando 3 jungle wood Ok Oh no Nessuna crafting cpu Cosa vuol dire Nessuna crafting cpu? È un grosso problema questo Ci serve una crafting cpu Allora cerchiamo un po' Crafting cpu Crafting unit Crafting co-processing unit E crafting storage Proviamo a fare una crafting unit Ci serve un'altra due calculation processor E un logic Vai Tu con Tu 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 Grazie mille Tu Con Tu Tu E li faccio e torno da voi Detto fatto In un secondo Quindi 1 e 2 Questo qua Crafting unit Proviamo ad attaccare anche questa Offline Cosa ti succede? Perché sei offline? Io non so come funziona sta cosa Non riesco a capirlo Non si collega Perché non si collega Se io lo metto qua Ti colleghi qua No Ho visto che non si collega Questo è un bel casino Quello è spento Questo è offline Anche Per quale motivo? Perché sei offline? Io lo so perché sei offline Perché questo è un sistema di Apple Energy Sticks Di base Però Per fare Autocrafting E soprattutto Quando iniziamo ad attaccare Un po' di robe in più Tu Hai bisogno Di un sistema di Apple Energy Sticks Un po' più avanzato Perciò Ci serviranno Quei blocchi Fighissimi Che a me piacciono un sacco Con cui ci costruirei Tutta una casa Se non fosse che costano un sacco Che sono Dove sono? Che sono Ehi Ehi dove sei? Questo qua Un EMI controller Qui ci serve uno di Pure Fluix Crystal Qui ci serve Fluix Questo Quindi Devo caricare Il quarzo Quarzo Dobbiamo caricarlo Che casino Uno E Dai caricati più velocemente però Allora Iniziamo con questo Intanto Prendiamo anche questo Andiamo qua fuori Sempre nella nostra pozza Facciamo Uno Due Tre E ci da Due Fluix Crystal Poi Questi qui Li polverizziamo Di nuovo Facciamo così Tu sei pieno di energia ormai Uno E due Ok Poi prendiamo Della Sabbia Si raga Non funziona niente Stato cosa Di Applied Energistics Sono io che sono rincretinito Però non funziona proprio Secondo me E ci facciamo i nostri quattro Fluix Seed Che buttiamo qua dentro E cerchiamo di ridargli energia A sto coso Così Così E così E Anche questi qua fuori Dovrebbero attivarsi Si Si attivano tutti Quindi quello lì dovrebbe Crescere molto velocemente Adesso E poi Per il nostro Amicontroller Ci serviranno ancora Degli Skystone Block Che si fanno Bruciando la Skystone E va benone E Un Engineering Processor Quindi vediamo di farlo Facciamo così E Così Riattacchiamo il suo cavetto Che gli piace molto Se no Non ha energia What? Perché non fungi Ah perché ho messo il quarzo E non questo Che idiota che sono Ok Ora Engineering coso Poi mettiamo questo E Questo qua E me ne fa un altro E poi facciamo Eins vai dry Voi a che punto siete Controlliamo la percentuale Già 59% Vanno da dio E prendiamo questo Poi prendiamo un po' di Skystone E Facciamo una roba Veramente proprio Super ghetto Track Track E ci togliamo Tutti i problemi E voi Laz Almeno io non devo stare qui Troppo a stressarmi Eh Ok È un gran casino Questo Play The Energistics Io l'ho sempre detto 93% Vai Finisci Ti prego Poi oggi ho anche mal di gola Si sente che non riesco a parlare Parlo tutto così strano Che fighi però sti cosi Mi piace Questi Questa skystone E Quattro E Tu Dammi I miei cosi pronti Yes Very very good E Dovremmo esserci Uno Due E Mi controller Yes Yes Ok Adora adesso dovrebbe funzionare tutto molto meglio E noi sostituiamo questo con il controller No Allora sostituiamo Questo Con il controller Che è una roba molto più intelligente da fare Perché sennò non ha energia E il controller dovrebbe accendersi Però c'è troppo poca energia qua Ci serve plus d'energie Plus d'energie Facciamo così Oh yes Si è acceso Alleluia Alleluia Adesso Così funzioni No perché non ci sono CPU Vediamo un po' se adesso ti metto questo È offline Offline Perché non si collega Io non le capisco ste cose Crafting CPU Non la vedo Coprocessing unit Sarà questa Quindi ci serve un engineering process Ok Facciamone uno Allora Engineering È questo Con questo Molto molto bene Stiamo facendo fuori diamanti Come fossero pan bagnato Anche se il pan bagnato In realtà non se lo magna nessuno Perché fa proprio schifo Cioè dai Il pane è più buono Quando è asciutto Almeno questo Quello che penso io Il pane bagnato Non c'è Suona anche brutto Cosa mangi Io ho pane bagnato Sei fuori Come ancora offline Ma se ti ho appena collegato Neanche questo C'è Paccano Non ci posso credere Io non lo so che cosa devo fare Per farlo funzionare Se te lo metto lì No così sicuramente Non ti piace Ok torno subito Ok ragazzi Allora sono un piccolo idiota Perché non ho capito Assolutamente niente Però adesso dovrei aver capito Praticamente La co-processing unit Serve per far andare Le cose più veloci Quello che serviva a noi Non era questa qui viola Ma era una di queste qua Belle colorate Che sono i crafting storage Ci serve un crafting storage E una crafting unit Però il crafting storage Funge anche da crafting unit Perciò in pratica Ci serve solo ed esclusivamente Un crafting storage Perciò questa Al momento Non ci serve a niente Ora Vediamo di fare Sta roba qua Che vuol dire Che ci servirà anche Almeno un One key storage coso Perciò serve Dei logic processor Un altro logic processor Quindi intanto Lo metto su E faccio questo qui Danke Poi questo volendo Possiamo anche attaccarlo Tanto non è un problema E facciamo così Ci mettiamo un altro Silicio Silicio Continuo a sbagliare Scusate Se vi da fastidio Mi spiace di sbagliare Continuamente Magari c'è qualcuno Di voi che sta Impazzendo Basta chiamarlo Silicone Si chiama Silicio Se siete veramente Così Mi spiace Ok One key storage Component E crafting unit Facciamo un One key storage One key crafting storage E vediamo se me lo attacchi Adesso Oh Alleluia Alleluia Ora dovremmo Finalmente riuscire a fare What Avanti E inizia Dovrebbe essere Già passato di qua E Abbiamo la nostra legna Ok Rifacciamolo Vai Inizia Quattro legni Ok Vediamo un attimo Se io attacco questo Se va più veloce Non lo so eh O se ne può fare Di più contemporaneamente Beh intanto ce l'abbiamo Prima o poi ci servirà Fammi dieci legni Ah 12 legni Ok Devo smetterlo Ok Quindi praticamente Questo è come funziona Adesso Vedete tutta sta roba Qui schiacciata qua La prendo E la espando tutta In quello che poi sarà L'inizio Della nostra nuova base Perché Ho tolto tutta la roba Da qua appunto Per far spazio All'inizio Della nostra Nuovissima base Fighissima Devo solo scavare un po' di Questo E poi quando L'ho spostato tutto Lo riguardiamo un secondo E poi devo concludere Qua l'episodio Perché come anche Come sempre In pratica Per me Sono sempre in ritardo E quindi Devo iniziare Come sempre A caricare Super presto E abbiamo fatto pochissima roba In questo episodio E mi fa arrabbiare sta cosa Però Voi Siete sempre Lì che mi dite Ehi gualti Fai un altro video E allora Cioè voi In realtà uno di voi Che sì sì Lo sto facendo L'altro video Lo sto facendo proprio adesso Senti che lo sto facendo Ah No scherzo Vai tranquillo E quindi devo mettermi a caricare Ma perché io sono in ritardo Ok Faccio tutto E poi Ci vediamo tra un secondo Ok Allora Ho spostato tutto qua Come potete vedere Devo mettere soltanto Dell'acqua qua dentro E la cosa figa Di Applied Energistics 2 Anche secondo me È che puoi mettere tutto Sul pavimento E camminarci sopra Anche tipo Questi terminal qua Li puoi mettere qua Per terra Verso l'alto Anche questo È una figata Non devi più mettere tutto Nei muri Come prima Comunque Un'altra cosa Che volevo farvi vedere Riguardo a questa bellissima legna È Adesso ne crafto Un bel po' Tipo Un centinaio Guardate Si vede qua dentro Che lo sta facendo È fighissimo È già finito? Ah credo che abbia finito L'energia Più che altro Eh mi sa proprio di sia Peccato Si è spento Mi servirà più energia Nel prossimo episodio Mi sa che ci occuperemo Appunto di fare Molta più energia E io inizierò Anche a fare La base Che ho pensato Visto che siamo In un deserto È tutto Anziché Cioè fare Oltre a un villaggio Qui abbastanza desertico Che mi piace Di fare villaggi Come vi ricordate Se vi ricordate In Attack of the Beat Avevo fatto Avevo migliorato Uno di questi villaggi E stava venendo Veramente bene Poi è finita la serie Però Qua possiamo fare Anche qui questo Potete Pensavo di fare Una bella piramida Tipo qua Allargarmi tutto Fino al coso lì Farla gigante Fare una piramide Da fuori Che sembra vecchia E dentro Tipo super tecnologica Quasi aliena Dimmi cosa ne pensate Di questa idea Ora Io devo andare Devo caricare questo video E spero che Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un mi piace Se non vi è piaciuto Mettete un non mi piace Ricordatevi di iscrivervi Per vedere altri video Che faccio Tutti i giorni Tranne quando mi dimentico E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao